Qui stanno arrivando i rinforzi per la macchina che prende fuoco, riprendi pieno dinamico Poi potete vedere, ma non riprendi, riprendi bene Sono i vigili, guardate, guardate, è pieno dinamico, guarda, riprendi, qua sono i vigili del fuoco Sono arrivati, chiamati dal sottoscritto perché è pieno dinamico, sono qua con me Stanno cercando di spegnere le fiamme, le fiamme, le fiamme Ragazzi, continua a riprendere, ci sono i vigili che adesso attueranno il loro metodo di... Guardate come sono intrapendenti, guardate, guardate, guardate Vedete, come potete vedere, guardate l'intervento Guardate, vai, prendi bene, vai per il pieno Ragazzi, Milord 766 è un eroe, sono diventato un eroe Come il film di Dustin Hoffman, sono un eroe, Dustin Hoffman Milord 766, Dustin Hoffman